Uno dei protagonisti di questo inizio di stagione è il capitano Stefano Reali, ti chiedo un bilancio di queste prime partite e come li stai trovando con i tuoi compagni? No, in queste prime partite stiamo andando molto bene, a parte l'ultima che non siamo andati molto recisi, però anche con la squadra da subito ho avuto un bel rapporto. Stai trovando continuità, ti senti un po' un leader emotivo di questa squadra? Per questo sì, anche il mister mi sta dando tanta fiducia e faccio di tutto per ripagarlo. Quanto è bello essere allenato da un allenatore del carisma di Gennaro e che cosa vi ha detto riguardo i colori dell'entella? È una bella esperienza perché è un allenatore con grande esperienza, anche da giocatore, sono convinto che può insegnarci molto.